Oggi un incontro sulle energie rinnovabili e l'agricoltura. Facciamo il punto della situazione degli investimenti e di quelli che sono le prospettive. Oggi più che mai l'agricoltura italiana, l'agricoltura calabrese, l'agricoltura di confagricoltura vuol dare un segnale. A seguito della guerra russo-ucraina abbiamo visto come oggi i consumatori siano in difficoltà rispetto alla caro spesa. Ma anche gli agricoltori arrivano in un momento difficile, anche noi stiamo sostenendo dei costi incredibili per poter far fronte a quelle che sono le richieste dei nostri consumatori. Proprio per andare incontro ai nostri amici consumatori abbiamo la necessità di abbattere i costi. E questo lo possiamo fare se riusciremo a produrre energia da fonte rinnovabili. Chi meglio dell'agricoltura oggi è in grado di produrre energia rinnovabile da sole, dall'utilizzo dei sottoprodotti dell'agricoltura. Quindi una grande produzione di energia elettrica è in grado di abbattere i costi di produzione. Per far questo è evidente che ci vogliono norme che possano semplificare gli itera autorizzativi perché ancora oggi in Italia c'è una normativa che facilita le energie rinnovabili ma che a me per ammala burocrazia rende molto difficile la realizzazione di questi impianti. Quindi dobbiamo snellire i leader burocratici, facilitare tutto questo per poter dare quella risposta sia ai produttori agricoli per essere sempre più produttivi e competitivi sia soprattutto per i consumatori di avere un prodotto sempre a un costo minore. Si parla da tanto tempo delle energie rinnovabili. Forse insomma potevamo farci trovare più preparati secondo lei? Ma questo è un po' come la politica agricola, la politica energetica. Sono state fatte tante scelte senza considerare che non viviamo in un mondo perfetto. Noi agricoltori oggi produciamo 4,5 gigawatt di energia, ne avremmo potuti produrre molto di più. Non si è investito sufficientemente nell'agricoltura e nelle rinnovabili. Noi agricoltori sappiamo di essere oggi più che mai fondamentali per la vita sociale di tutti noi. Oggi un paese forte non può non avere un'agricoltura forte. Anche qua ce ne siamo accorti tardi direi. Dall'altra c'è profonda incertezza perché siamo imprese, siamo imprenditori e quindi temiamo molto che questi mercati impazziti possano generare sempre di più forti oscillazioni sui prezzi e quindi questa incertezza bisogna che noi la stabilizziamo perché non è pensabile, non è possibile che gli agricoltori possano o debbano fermarsi. Quindi ci vogliono delle misure in grado di tutelare ovviamente la produzione e su questo ovviamente stiamo chiedendo al Governo e soprattutto alla Commissione europea di dare segnali forti e tangibili affinché la produzione agricola non si fermi ma si aumenti. L'atteggiamento del Governo e del Ministero corrisponde a strada per da perseguire, per raggiungere i vostri obiettivi? C'è una collaborazione? C'è una collaborazione molto stretta e molto forte. Purtroppo abbiamo un contesto di bilancio paese che rispetto ai nostri competitor francesi e spagnoli non permettono al Ministro di fare o di prendere misure paragonabili a quello e che sono state varate ad esempio in Francia solo per il settore latte, in Francia è stato stabilito un miliardo di euro, noi invece abbiamo una misura molto molto più bassa per tutto il comparto agricolo. Quindi sicuramente in Italia scontiamo delle scelte di bilancio sbagliate negli anni precedenti che rischiano di creare delle asimmetrie quando la guerra finirà e questo non possiamo permetterci perché l'agricoltura italiana è un'agricoltura leader a livello non europeo, a livello mondiale, quindi dobbiamo necessariamente rafforzare questo settore.